Ciao bambini, bentornati, oggi abbiamo dei nuovi robot, esatto, sapete quali li facciamo vedere? Ma li avete già fatti vedere voi? Solo te, questo rosso, tiralo, tiralo, bianco, è il bianco e rosa, no è blu, è bianco e rosa, blu, ora vediamo, e di qua è il bianco e rosa, Allora bambini, bambini, facciamo una cosa, scommettiamo, secondo voi, e fanno prendere anche dietro, di che colore è? Se indovinate, se indovinano cosa facciamo, un saluto speciale? Sì, sì, e in più faremo un video speciale delle tartarughe ninja, si indovinano? Dovete scrivere nei commenti il colore adesso, su, su, polliciate, e per quelli che hanno indovinato li salutiamo, bravissime, e apriamo anche le tartarughe ninja? Allora, allora, da quale cominciamo? Io, 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 vai, aspettate, dove li abbiamo presi questi giochi? Come non lo sai? Dai, dove li abbiamo ordinati, Pietro? Stai giù? Li abbiamo ordinati da Banggood, dal sito Banggood, che vi lasciamo qua sotto. È il telecomando. Ha pure il telecomando? Sì. Pure il telecomando, allora, va a non distruggere il gioco, eh? Ecco, no, lascia perdere. Come si fa? Bravo. Allora, cominciamo, fai vedere. Qui ci sono tutte le frecce, un pulsante con il muso coltello. Clicca le frecce, clicca le frecce, clicca le frecce. Non asciogli lingua, clicca le frecce. Schiaccia le frecce. Avanti, non fate niente. Visto come fa? Aspetta, aspetta, fai andare avanti di nuovo, fai vedere, bambini. Ah, di nuovo, di nuovo. Visto come cammina? Alla Robocoppo. Indietro. Boom. Boom. Che non è fatto? Cosa è fatto? Destra, ora fa a sinistra. E ora fai vedere i bambini, il pulsante magico. No, let's go together. Nostro lobo bella, Pietro. Fa Michael Jackson. Claro, eh? Ah, questa volta più prestisse. Sì, è vero, fa Michael Jackson. Sì, è vero, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Non è vero. Non è vero. Ho avete visto la mambrini? Che bello è il nostro robot. Lo spegnolo. Come lo spegnolo? La Lucia stupata? Come on, let's go together. Oh, la cattore. Oddio. Come on, let's go together. La Lucia, e tutti ciò. Ah, stop, stop. Tu hai già ballato abbastanza. Tocca al mio di robot. No, io. No, e devo ancora scrivere di che colore è. Se è rosa o blu. Ah, ah. Ah, ah. Pronti? Volete vedere cosa fa il mio robot? Sempre della Banggood, solo che questo è rosso. Provate a indovinare cosa fa. Ehi, vai. Forse lo so. Cosa? Tipo, fa la squaccata e poi inizia a girare. Prendiamo se ha ragione. E tra poco lo riazioniamo insieme. Io non posso fare del mio. Dai, dai. Ma che si accende? Bambini, si accende dal sederino. Che si accende dal sederino è colpa mia. Attenzione che non ho di fatto... Pronti? No, l'ho picchiazza! No, l'ho picchiazza! Non cadere! Ma cosa fai? Vieni qua! Torna di qua! Torna di qua! Spegnilo, spegnilo, spegnilo! Adesso è arrivato il momento. Mettiamoli qua. La cella! Allora! La cella! La cella! La tua puzza! La tua puzza! Adesso io la puro! Aspettate! Ramambrini, siete pronti? E' del colore esattamente blu! Ho vinto Pietro! E vediamo quanti bambini hanno divinato. Non c'è il telecomando. Non c'è lui. Ah, lui non ha capito la stu però. Fai vedere il telecomando. Perché lui è un geno. E lui invece c'è il cello... Perfetto! Di Fireman! Perfetto! Ma parli sempre! Man! Perfetto! Ma vuole tirare? Ok Cos'altro fa? Non c'è questo Aspetta, vediamo cosa fa lui Mi è cacciuto il mio robot, scopo la moto fisica Io ne sono un E quale? Guarda, guarda Vediamo Uh, e poi? Aspetta Guarda la mia Ora vuoi girare basta? No, così forse Ehi, vieni qua Vieni qua Vieni qua Vedete, vedete Via Ecco E poi che altro fa? Che altro fa? Che altro fa? Allora, il mio può anche Tantare Vieni qua, vieni qua Aspetta, vieni qua che tu cadi È venuto con te No Vieni qua Wow, fa la Robo Dance Vanno davanti Che cosa si chiama Robo Dance? Sì, non è? Tu vuoi ballare anche tu? Vieni qua che il formore Aspetta Chi balla meglio i bambini? Anche la bambina Vuoi ballare anche tu? Eh, dicono che balla meglio Ok, giusto Pronti per la super festa di Robo? Sì Vieni qua Chi guarda meglio i bambini? Ah non lo fate Vieni qua Chi guarda meglio i bambini? Ma cosa fai? Ma il mio è ottiso Lui ha squalificato Non lo vieni qua Si vuole ritrovare giù Quando vuoi che se giusto di pinno? Cos'è questa roba? Ah... Cioè che vinceva Roman Bruce, secondo voi? E' il mio cattaturo Cosa c'è la lingua? Aramambrini? Cosa c'è la lingua Aramambrini? La lingua? E' tutta la lingua No Dio Cosa c'è tanta classica? E' buonissima Ma la lingua devi sputare Dai basta Mi cade l'osso Lascialo stare Guarda Arambrini Guardate lui Guardate qui c'è Dai Dove vai? Ma si vuole buttare anche lui Basta Farò per male ecco Basta Resta qua con noi Ah non esprimi Ok mi ha capato le uccide Mi aveva caduto dalla sedia Poi c'è Demi Vai Interminator Simone Interminator Vedi qua Girati Pietro Pietro Guarda lì saluta i bambini Non ci ammazzerà tutti a Dio Ciao Ci sono anche altre funzioni Ci sono anche altre funzioni Vediamo Facebook Facebook Ok Ok Allora poi Come sta? Ok Ok Ma secondo me sta scorrezzando Magari scorrezzere la bottiglia Vediamo dai di nuovo Via No No Stai tranquillo Via Ma Volevo provare anch'io Volevo vedere cos'altro fa Eh ma i dai pugni Rammambrini Se il video vi è piaciuto Se il video vi è piaciuto Lasciate tanti like E iscrivetevi al canale Esatto E commentate Ciao Ciao E un saluti Ciao